Da oltre 25 anni SunPower guida la rivoluzione fotovoltaica. Inventiamo nuove tecnologie fotovoltaiche, alziamo gli standard, battiamo il record e cambiamo le abitudini energetiche delle persone. Ecco perché chi conosce il fotovoltaico sceglie SunPower, the world's standard for solar. Esclusivista Enersafe, Smart Energy, Centro Lucrezia della Valle, Catanzaro. Grazie. Grazie.